Alla fine è passata la linea dura. Il decreto natale prevede il lockdown nazionale nei giorni festivi e prefestivi fino al 6 gennaio e precisamente il 24, il 25, il 26 e il 27 dicembre, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, il 5 e il 6 gennaio. In questi giorni resteranno chiusi bar, ristoranti e negozi. Sarà vietata la circolazione per ragioni non essenziali. Nei quattro giorni lavorativi, e cioè il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio, resteranno in vigore le regole della zona arancione, consentiti gli spostamenti tra piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti entro un raggio di 30 chilometri. Si potranno invitare due persone senza contare gli under 14. Le misure che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha definito necessarie, in quanto il rischio della terza ondata in concreto decise dopo un confronto di 5 ore a Palazzo Chigi.